Ciao ragazzi, oggi ho un'immagine molto inaspettata ho detto ciao a Doraemon vediamo se è ancora lavorato otto mattone vieni il nostro amico Barney mi aiutà con il streaming perchè a volte il streaming è molto lungo quindi ho bisogno di fare quindi ho bisogno di Barney quindi oggi vediamo qui ho messo più grande cosa sta succedendo ragazzi questo team T-Buddy praticamente mi invitano al migliore summit del mondo che è il VidSummit cioè in questo VidSummit ci sono i migliori youtubers del mondo che è il 3 ottobre e il 5 ottobre in Dallas quindi vengo qui perché è scritto get your tickets quindi vengo anche voi potete provare quindi potete vedere cosa sta succedendo ci sono mister beast poi poi c'è anche il King ogni volta che mi esqueco è molto famoso tutti i youtuber più successivi più successivi del mondo è là questo è molto famoso qualcuno ha raggiunto 1 milione di subscriber durante il summit quindi è il sogno di 1 milione di persone quindi ho messo ho messo ho messo il ticket ho messo il ticket ho messo il ticket ho messo il ticket ho messo la mail e poi mi rispondono vedete mi mandano molti email anche dal libro social libro vid summit reserve il tuo sito mi invito 5 volte questo è il paradisi dei youtuber ok però ovviamente questo ha un costo, ecco qua, quindi il prezzo è, come puoi vedere qui, in personale in Dallas costa 995 dollari, quindi non è per ogni valore, come vedete che ti dà il prezzo, e potete vedere praticamente, 5 ore, non lo so, di questo prezzo costa 199 dollari, quindi ho detto, beh, non è per me, è un sogno che non è per me, perché è troppo il prezzo di alto, non ho questo argomento per andare, questo è il migliore summit, il paradiso, è il paradiso di youtuber, di tutti youtuber che vuole andare lì, ma questo body, un altro email che arriva, è il Ask Me Founders, praticamente ho messo il link in questo canale, questo puoi parlare, se vuoi, puoi chiedere domande, se vuoi, puoi me tips, ma puoi anche chiedere per free, non è per forza, quindi questi, i fondamenti, invitano me e mi dicono che sono i sponsori qui, bene, siamo contenti di essere sponsorizzato con il summit, quindi questo è diverso, quindi magari ho applicato qui, e quando ho applicato queste cose, perché vedo che c'è un po' di persone, un po' di spot, ho messo almeno tre email, tre differente email, per riservare il spot, perché questo è il sponsor, e queste persone mi hanno dato 25 dollari, quindi, magari il sogno è che questo, vogliono per comprare per me il ticket, e ho mai aspettato questo, magari sono i nostri, perché sono i nostri, non lo so, 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 già in me, questi giorni, come 10 email, per andare al Vid Summit, è incredibile, quindi il sogno continuo, perché, ragazzi, Mr. Beast, poi l'altro, King, la magician, youtuber, ma che avevo lo schicchiato